benvenuti io sono il cencio e questo è un nuovo episodio di silent hill 4 the room nell'ultima puntata abbiamo continuato l'esplorazione dei dintorni dell'orfanotrofio non siamo ancora riusciti ad entrare ma un'idea di come fare ce l'abbiamo di fatti siamo qui a casa mi piace proprio tanto iniziare gli episodi con questa schermata qua che è proprio veramente bella 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 con la porta incatenata e queste luci lievemente soffuse abbiamo scoperto che jasper vuole il latte al cioccolato ma sto block notes c'era mica me lo ricordo sapete sì mi sa di sì abbiamo scoperto che jasper lì ha tanta sete vuole del cioccolato e guarda caso noi abbiamo del latte al cioccolato quindi glielo porteremo e poggiamo il kit medikit poggiamo anche queste armi qua che non abbiamo intenzione di utilizzarle e quanti proiettili abbiamo per pistola java madonna 60 ok è il momento di se mi ricordo come si faceva ok qui abbiamo bevanda nutritiva un kit medikit che abbiamo portato adesso le monete per la per la metro e la placca della tentazione il latte al cioccolato latte al sapore di cioccolato molto dolce nel frigorifero di casa prendiamolo e lo portiamo a jasper che ne sarà sicuramente entusiasta se riesco a guardare sopra che comandi sono fatti bene andiamo e rieccoci nella parte di fronte al tonuca lake lui con bestiacce morte e strani macchinari noi a sto punto ritorniamo fatemi dare un occhio alla mappa ritorniamo eh sì alla wish house perché abbiamo abbiamo esplorato tutto guardate quanti quanti buchi nel muro ci sono in questa zona tantissimi proprio tantissimi sebbene alla fine sia una banalissima x sto posto guardate la mappa è una x wish house al centro con le braccine che vanno in ogni angolatura è proprio una x ma abbiamo tantissimi buchi checkpoint jasper guarda cosa ti ho portato aspetta no aspetta è che adesso si fa complicata la cosa è jasper io qui devo ho to prendi questo jasper oh man that was awesome here take this there's something written on it proprio così capito te la tira in terra con spregio non è che te la porge che ti ho portato se riesco a prenderla ok è una paletta con una scritta insanguinata vuoi prenderla sì paletta con scritta insanguinata c'è scritto col sangue di fronte a dove lago e casa si incontrano dentro la mano aggrappata al suolo quindi è un po' fuorviante perché lago e casa si incontrano verrebbe da dire dietro di noi perché al lago ci siamo andati da dietro di noi però la mano aggrappata al suolo era in realtà di qua era quasi un fondo se non ricordo male era qua la manaccia dopo 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 il fantasma o no dopo il fantasma c'era solamente andiamo un po' qui c'è il fantasmino no eccola qui sì 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 di nuovo ma sto posto di qua no ma non c'era davvero nient'altro a parte le scritte no il pozzo le scritte gli altarini oh dio no tormenta quel coso allora scaviamo qui un braccio che sbuca dal suolo grazie al cielo sì hai la chiave insanguinata arrugginita chiave insanguinata e arrugginita sopra c'è scritto il possessore di questa chiave vagherà in eterno ah questa era una figata questa era una figata perché se non ricordo male tipo adesso esatto adesso era un casino ritornare alla wish house era proprio un casino olè eh sì si continua a fare lo stesso percorso all'infinito e all'infinito e all'infinito guarda 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 guard all'infinito, non c'è modo quindi per poterla utilizzare oddio quanto metti brividinite bisogna tornare ovviamente indietro è un po' fastidiosa sta cosa che è quello che vi dicevo qualche episodio fa tutti gli enigmi, non tutti tutti però la maggioranza degli enigmi di sto gioco si gestiscono così o comunque funzionano in questa maniera richiedono il dover tornare costantemente indietro che per l'amor di dio a qualcuno può piacere a me non è che fa impazzire sta cosa quindi dobbiamo mettere via la chiave vai metti via lì perfetto ritornare se riesco ad alzare la testa nel nostro buco e senza chiave dobbiamo ritornare fino all'orfanotrofio e poi l'orfanotrofio riprendere di nuovo il buco ritornare al nostro appartamento riprendere la chiave e ritornare lì capite che enigmone mamma mia è più la palla di dover fare avanti e indietro costantemente in questo in quel tunnel che non l'enigma stesso è per quello che mi lamentavo io degli enigmi di Silent Hill 4 che riguardano quello fa manco più paura ormai l'ho proprio ignorato bellamente perché dopo la quarta volta che me lo fai vabbè e dicevo capite non sono divertenti gli enigmi da superare in questo gioco sono insomma meh meh lo so che c'è che gli piace perché per esempio quando avevo detto la prima volta proprio mi pare prima di arrivare qui dissi sta storia degli enigmi che bisognava tornare indietro che non avevano i trigger queste cose così li criticai un pochettino ci fu sono stato rimproverato ecco è stato che mi ha detto e no perché questi enigmi in realtà sono bellissimi ma sei tu che non li capisci e vabbè i gusti sono gusti disse quello che succhiava i chiodi ragazzi cioè se ti piace succhiare i chiodi non ti si può dire nulla questo è una perla di saggezza che si usa dalle mie parti c'è anche la versione più volgare eviterò di dire limitiamoci con disse quello che succhiava i chiodi riprendiamo la la chiave insanguinata arrugginita e voilà rialziamo la testa sto diventando bravissimo ad alzare la testa forse avremo una chance di avere un finale decente in questo gioco forse non ne sono sicuro e con la nostra chiave insanguinata arrugginita possiamo rientrare per la 800esima volta nel buco che ci riporterà questa volta a destinazione dove si spera potremo usare la chiave il colmo è se non ricordo bene e la chiave andava usata da un'altra parte tocca rifare avanti e dietro un'altra volta quindi vediamo un po' oppala mi ricordavo bene già spero ancora se beve il coso buoni fermi dice lo faccio un rottino che cosa? il latte a cioccolato o l'orfonotrofio? madonna mia voilà eccoci finalmente dentro l'orfonotrofio nel silenzio più totale è entrato anche jasper chissà che cosa succedeva qui dentro però c'è la lucina accesa anzi le luci accese per esempio anche qui quanto sarebbe stato terrificante se sto posto ce l'avessero fatto trovare al buio e l'avessimo dovuto illuminare con una torcia mamma mia quanto sarebbe stato terrificante molto più spaventoso molto più spaventoso sta cadendo a pezzi e non riesco neanche a leggere la maggior parte delle pagine ecco una parte leggibile questo è importante ora ne parliamo il secondo segno e dio disse offri il sangue dei dieci peccatori e l'olio bianco si poi liberato dai vincoli della carne per ottenere il potere dei cieli dalle tenebre e dal vuoto genera l'oscurità e circondati di disperazione per colui che offre saggezza il terzo segno e il signore disse torna alla fonte attraverso la tentazione del peccato sotto l'occhio vigile del demonio vaga solitario nel caos senza forma solo allora le quattro conciliazioni saranno in allineamento questo è palesemente un rituale ok 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 ci andiamo dopo lì dentro perché mentre che c'è questo simpatico suono dicevo quello è palesemente un rituale che non si sa tuttora chi l'abbia scritto perché quando e voi direte vabbè pazienza no è normale no perché quando venne scritto sto benedetto libro da konami stessa nel sito di silent hill venne spiegato tutti questi retroscena cioè non è che venne spiegato si sono inventati un po' di dettagli su alcuni retroscena dell'orfanotrofia e cose così ma sto foglio se ne sono dimenticati quindi tutt'oggi ci sono varie teorie che magari l'ha scritto Dalia Gillespie stessa che non si sa che ci faceva qui nell'orfanotrofia oppure è stata Claudia Wolf vai a capire qui per esempio ecco ne abbiamo un altro guardate perché si parla di Dalia Gillespie e Claudia Wolf hai trovato Alessa come procedono le cose con Walter mandami un rapporto scritto cioè capite tutta questa roba si pensa che sia per mano di 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 Dalia o Claudia Wolf ma non si sa non lo sanno manco loro non lo sanno manco loro chi l'ha scritta sta roba qui ora arrivo ora arrivo la seratura è rotta non riesco ad aprire la porta non mi va giù ok c'è una placca sulla porta vuoi togliere la placca? sì placca della fonte placca dal mondo della foresta raffigura un neonato e dice fonte a a a a a a a a a Ah! 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 I finalmente metto him! The one the nosy guy talked about! The Devil! A special news report. In una foresta vicino a Silent Hill, il corso di un uomo di 30 anni è stato scoperto prima di oggi. Le polizie hanno ruotato un omicidio e stanno investigando. I numeri 17121 sono riportati nel corpo del mannale. Due alle margine sulle vittime, le polizie stanno investigando possibili link a questo caso di Walter Sullivan di 10 anni fa. Olè! Perché più di una volta abbiamo sentito nominare Walter Sullivan e... Riabbiamo quella sequenza numerica che lui si è inciso, avete visto, con quel candelabro da solo nel petto, in quella sequenza veramente poco 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 riuscita. Parer mio, ripeto, parer mio, siete liberi di discordare con quello che sto dicendo? Ma secondo me tutta la parte della foresta dell'orfanotrofio di questo Silent Hill 4 è proprio veramente venuta male. Veramente venuta male. E il problema qual è? Che uno arriva fino a qui, no? A giocare. Vede l'inizio un po' così, eh? E pensa, ma fa proprio schifo sto Silent Hill 4. In realtà, secondo me, tra poco avremo una delle ambientazioni, una delle sequenze di gioco più belle di tutti i Silent Hill. Perlomeno a me è sempre piaciuta tantissimo questa sequenza che stiamo per vedere. Quindi ecco, era giusto per dire, se anche voi come me, ogni volta che rivedete questa parte, rimanete basiti per la bruttezza di queste sequenze, che è proprio quello che strilla in quella maniera, the devil, che brutto, proprio brutto, 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 brutto. Ripeto, può piacere, mica dico che no, ma è veramente di qualità scadentissima, proprio scadentissima. Come c'è a chi piace, che ne so, il pane raffermo, eh, oh, contento te, contenti tutti. Però è veramente di qualità bassissima sta roba, di qualità bassissima. Andiamo un occhio fuori dalla finestra per vedere se ci sono cose nuove. Facciamo lo stalker. Ah, dannazione, vedete, non ci si può muovere, non ci si può muovere in quella, devo usare il mouse, useremo il mouse. Vediamo se c'è qualcosa di strano, a parte le persone uguali. No, parrebbe nulla di strano. Nulla di strano. Oh, suonano quest'ora del mattino, chi sarà mai? Andiamo a vedere. Voglio vedere lo spingino. This is the superintendent. Are you in there, Henry? Help me! There's something wrong with this room! Help! Let me out of here! Is anybody home? What's going on here? Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Oh no, 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 no. e niente il custode ci rinuncia proprio non è che dici chiamo i pompieri chiamo cose ci rinuncia perché è normale così ma tutta questa sequenza in realtà serve solamente a farci vedere che è comparsa una manata di sangue bello fresco in più e ormai non è più un caso non lo era neanche prima ma adesso ne siamo sicuri muore la tizia nella metropolitana bam manata di sangue fresco muore bruciato jasper nell'orfanotrofio bam altra manata di sangue fresco qui qualcosa non quadra ma a quanto pare anche queste non le vede nessuno cioè voglio dire vedi le manate di sangue nel corridoio di un palazzo la gente inizierebbe a preoccuparsi devo dire comunque o perlomeno le pulisci non è che le lasci seccare così vedete che quelle sopra proprio sangue secco vecchio raffermo mentre l'altro proprio sangue bello rosso fresco insomma non le lascerebbero di certo lì a quanto pare non le vede nessuno forse non esistono per nessuno se non per gli occhi del nostro protagonista chissà però tutto questo è molto 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 strano molto strano diamo un occhio alla nostra vicina se non ricordo vi avevo spoilerato il nome sempre lì che fa smascella che ha fatto tutto bene? insomma non ti vedo bene però nulla di strano nulla di strano possiamo spiarla e stalkerarla ma nulla di particolarmente strano diamo un occhio qui se abbiamo cose nuove no no? perfetto sembra tutto regolare è bene ispezionare l'appartamento di tanto in tanto visto gli eventi assurdi che lo riguardano magari ok il frigorifero è vuoto non ho niente da cucinare dunque non devo lavare i piatti ok sta campando di amore il nostro protagonista non è il momento di cucinare è questo e poi qui non ci sono gli ingredienti ok va bene non abbiamo niente di particolare quindi a sto punto siamo ancora chiusi qui dentro in preda alla disperazione proviamo a rientrare nel buco che tra l'altro diventa sempre più grosso sto buco se riesco a selezionarlo ok il buco è cambiato di nuovo e mi sembra di udire delle voci di bambini e mi sembra di più Sì Eccola quella che vi parlavo nello scorso episodio Ovvero la sequenza di gioco secondo me più intrigante di tutti i Silent Hill Questo livello perché come potete vedere qua il gioco è suddiviso in livelli palesemente Sebbene le aree sono sempre state una prerogativa di ogni Silent Hill Qui purtroppo la distinzione è proprio netta, tronca E possiamo parlare di livelli sostanzialmente Sto posto non lo so, in realtà non so come dirvi, non è niente di particolare no? Però, boh, vi lascio giudicare Guardate già L'atmosfera Già stiamo migliorati Siamo passati dalla notte desestiva di vacanza A Una grotta umida Una fognatura Sotto di una nave Con acqua che gocciola Comunque va da tutte cose che Insomma, un po' di inquietudine te la mettono Non è che ti rilassano come una notte de ferragosto Capite? È decisamente più inquietante qua Stiamo andando per il verso giusto Vediamo qui Opla Guardate che Roma C'è palesemente qualcuno Che Aspetta, ecco che Sti cosi schifosissimi C'è palesemente qualcuno Che è passato davanti allo spioncino Facendo ombra Qui dentro E guardate sto posto Sembra proprio Sembra tipo un carcere Sembra proprio un'acella Di un carcere Però Con lo spioncino Ecco, ecco E sembrano Suoni Di tacchi Anche se è difficile dirlo Per esempio Molte persone Sono partite direttamente in quarta Quando hanno sentito sto suono Ah, questi sono palesemente dei tacchi Quindi la persona che sta dietro Questo spioncino È una femmina Perché porta i tacchi A parte che oramai siamo nel 2021 E i tacchi li portano anche i cani Letteralmente Quindi potrebbe benissimo essere un cane Per quello che ne sappiamo Però Scherzi a parte Di nuovo Scherzi a parte Questo suono È un suono in realtà Usatissimo È un suono standard Che si acquista Per Non ricordo il nome Di quale engine Però praticamente Voi tenete conto che Praticamente tutti gli engine Famosi Tipo l'Ureal engine Il Cry engine No? Gli Unity Tutti i vari engine di videogiochi Più famosi Più utilizzati Hanno Degli store In cui vendono gli assets Gli assets sarebbero Tipo Modelli già fatti Tipo Il modello Di essere umano Modello di un cane Modello di un orso Che tu compri E metti direttamente Dentro al tuo gioco Ok? Ci sono anche i suoni Tra questi assets Questo suono qua È il rumore Dei passi standard Che veniva venduto Per questo Engine Che non è quello Tra l'altro Utilizzato In 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 Silent Hill Quindi non ho idea Che ci faccia qua Perché l'abbiano preso Però io Vi racconto sta roba Ora Maledizione Io che non mi scrivo le cose Non mi viene Perché sto andando Tutto a memoria Non mi viene il nome Di questo engine Se mi viene Ve lo dico E comunque Capite È il suono Di passi generico Quindi non è nemmeno Tacchi femminili Non sappiamo Anzi Non possiamo Dedurre Se chi sta dietro Quello spioncino Sia un maschio O una femmina O addirittura Se indossi dei tacchi O meno Continuiamo ad esplorare Questo posto allucinante Olè Un cappio C'è scritto qualcosa Ne ho abbastanza Di essere osservato Con il cappio Rumore di chiavi Vedete le celle Come sono tutte Questa nel muro È muffa Sono muffite C'è umido qua Costante Difatti Uscendo fuori Possiamo sentire E vedere Gocce d'acqua Che costantemente Filtrano dal soffitto Quindi Vuol dire che qui siamo O sott'acqua O in mezzo all'acqua Tutta quella muffa E tutta quest'acqua Che Filtra costantemente Dal soffitto E dalle pareti È un È inequivocabile È proprio Inequivocabile Mi vuole uccidere Ha detto Qui abbiamo Addirittura Sono tipo Sanguisughe Queste Non possiamo Pestarle Né niente Eccolo È chiuso E non possiamo Parlare con lui Guardate Walter Ne vuole uccidere Vi ricordate Walter era Il serial killer Di Silent Hill Se ne era già parlato Addirittura ai tempi Di Silent Hill 2 Di Walter Sullivan E qui Sembra proprio essere Il protagonistone Che a quanto pare Sta uccidendo Persone C'è un biglietto Scritto in maniera Approssimativa Per terra Che fortuna Finalmente sono scappato Dalla cella Ho deciso di esplorare Bene questo edificio Il posto più terrificante È il seminterrato Del primo piano A nord-est C'è una cucina Ma accanto A nord-ovest C'è una camera Della morte Per entrarvi Occorre inserire I numeri giusti Non conosco i numeri Ed era troppo buio Per vedere il pannello E così Non sono entrato Non sappiamo Cosa sia La camera Della morte Però Noi esploriamo tutto La serratura è rotta Sembra comunque Qualcosa di terrificante Qui abbiamo Delle ghigliotti Delle Oh santo dio Quando non ti vengono Le parole Delle gogne Abbiamo Delle gogne Vuoi prendere Proiettili per pistola Assolutamente Sì No Un graffito Sembra ancora La scrittura Di un bambino Mi stanno guardando Dalla camera centrale Palesemente Abbiamo notato Che c'è una persona Che guarda Dallo spioncino La serratura è rotta E questa dovrebbe essere L'ultima porta Sì Questa era L'ultima porta Ok Quindi possiamo Tornare indietro Perché sto posto È circolare Tra l'altro Non possiamo Tirarlo fuori Il tizio Quindi per il momento Lo lasciamo lì E qui Abbiamo La porta Per procedere Nell'esplorazione Anzi le porte Per procedere Nell'esplorazione Di questo posto Allucinante E un buco Con un bigliettino Accanto È un biglietto Scritto in maniera Approssimativa Quindi sempre di un bambino Questo intende Approssimativa Per arrivare Alle sale di sorveglianza Al centro dell'edificio Devi usare Gli scivoli Per cadaveri Nelle celle Tuttavia Queste celle Sul primo e secondo piano Sono chiuse a chiave Questo perché i bambini Non li scoprissero Attenzione Così bisogna arrivare Al primo piano Da una delle celle Del terzo piano So come fare Ma è molto complicato Inoltre le luci Funzionano solo Sul terzo piano Diario Della guardia Nel tuo album De ritagli A questo punto Ci conviene Tornare indietro Per salvare Questa zona Nel checkpoint E liberarci L'inventario Perché abbiamo Un inventario Limitato Abbiamo già Proiettili E la placca Che non dovevamo Portarci dietro Ma qui Si apre il discorso Stiamo parlando Di bambini Scelle E è palese Che È tutto legato A Dove eravamo prima Eravamo In un orfanotrofio Dove venivano tenuti Bambini A cui vi ho detto Vi ho anticipato Gli venivano fatte cose Allucinanti Nel gioco In realtà In Silent Hill 4 Non si viene mai a sapere Davvero Cosa accadeva Con i bambini Cosa gli venisse fatto Esattamente Viene Come vi dicevo Spiegato poi In In altra sede Lo si intuisce Nel gioco Quello che accade A questi bambini Solamente da questa location Da questo posto Che adesso vi faccio vedere Andiamo a salvare la partita Così ci dice Il nome di questo posto Ritorno Dal mondo Prigione Acquatica Che Non lo so Ripeto È Secondo me È strepitoso Il concept Di questa parte L'idea È eccelsa L'esecuzione Un po' meno Sempre per i soliti problemi Vedremo poi Per esempio Abbiamo già intuito Che è una prigione Per bambini Il bambino Che si impicca Sono stanco Di essere osservato Mi impicco Boh Lascia un po' Il tempo Che trova Non lo so Magari però Non sono bambini Quindi Chi lo sa Chi lo sa Facciamo così Per questo episodio Ci fermiamo qui Nella prossima puntata Anche noi Esploreremo meglio La prigione acquatica Che è La mia parte preferita Di questo Silent Hill 4 Nonché ripeto Secondo me Una delle idee più belle Che ci sono mai state In tutti I Silent Hill Anche se purtroppo Come vi dicevo L'esecuzione Ne risente un po' Per colpa di Soldi Tempo E team limitato Alla prossima Alla prossima